Il tuo punto di forza è quello La voce crescente sugli acuti che combina nei nostri occhi Scegliere con un repertorio un po' più senso Hai dei sovracuti ma non hai un sol di passaggio Premio Mia Martini, una grande vetrina televisiva alla scoperta delle future stelle della canzone italiana ed europea Premio Mia Martini, nuove proposte per l'Europa 2010 Può essere il tuo momento Al Premio Mia Martini possono partecipare cantanti e gruppi che abbiano compiuto 14 anni Premio Mia Martini, nuove proposte per l'Europa 2010 Un evento televisivo nel nome e nel ricordo della grande Nini Premio Mia Martini 2010 Per informazioni e iscrizioni www.premiomiamartini.it Il Premio Mia Martini è un'iniziativa dell'Associazione Cultura e Spettacolo di Bagnara Calabra Premio Mia Martini, adesso tocca a te In palio, il tuo sogno Grazie a tutti Grazie a tutti